Quella sera fischiettava incautamente un inno della tradizione marxista che celebra la lotta politica condotta dal proletariato. La notte dei corvi, edito da Tabula Fati, è il romanzo di Bruno Spadaccini che racconta l'Italia fascista, in particolare quella delle province, tramite la storia di Ettore De Santis, direttore dell'ufficio postale di Guardia Vomano, frazione di Notaresco. De Santis, detto Toruccio, fu ucciso dal regime nel 1936. Ettore De Santis era una reduce della guerra del 15-18, claudicante perché ferito, asmatico, insomma era un piccolo uomo, ma poi come vedremo dopo si dimostrerà anche un anti-eroe. La storia è raccontata a partire dall'omicidio, nel 1924, di Giacomo Matteotti, l'onorevole ucciso dopo aver denunciato in Parlamento la violenza fascista. Questo episodio suscitò molto interesse da parte di Ettore, Toruccio lo chiamo io, praticamente ha messo attaccato sui muri di Guardia Vomano e anche al cimitero dei manifestini con i passi del discorso che fece Matteotti a Montecitorio. E quindi allora questo ha alzato dei muri di odio da parte di chi lo circondava. Ettore però non voleva saperne, era guerra dichiarata contro i frigni, seppure convinto di rimetterci non solo la dignità ma anche la vita. E il romanzo, dice l'autore, potrebbe presto diventare uno sceneggiato cinematografico. Ettore si alzò dalla sedia con lentezza. Moveng.